Albergatori veneti in rivolta per i ripetuti blackout elettrici negli hotel. Federalberghi, l'associazione di categoria, chiede soluzioni immediate nel pieno della stagione turistica. Infatti, i problemi causati negli hotel di diverse località del litorale, da frequenti blackout elettrici, generano disservizi e disagi alle strutture. Gli alberghi veneti pagano 200 milioni di euro all'anno per le bollette e temono così di perdere clienti. Soprattutto le località balneari della costa, Iesolo, Bibione, Carre, ma anche Abano Terme. Gli alberghi ci sono sempre stati, così tante case, appartamenti e residenze evidentemente è un fenomeno un po' più moderno. Quindi va bene l'evoluzione, va bene l'adattamento ai tempi, fanno bene le programmazioni urbanistiche moderne, però altrettanto servono servizi come quello elettrico che siano all'altezza. Oggi purtroppo non lo sono. In alcuni casi sono stati pesanti i disagi mettendo in difficoltà l'intero settore del turismo veneto. Succede purtroppo che in certi casi si siano fermati gli ascensori con gli ospiti dentro, si siano bloccate le pompe delle piscine, si siano bloccati gli inverter, si siano spente le luci, quindi grossissimi disagi sia per i clienti che per i lavoratori. La richiesta di una collaborazione immediata tra pubblico e privato, soprattutto da chi gestisce la rete elettrica. Ringraziamo già dei sindaci che si sono mossi, Dezzotti a Jesolo, Barbierato ad Abano, già in qualche modo hanno rilasciato delle dichiarazioni e si sono resi disponibili a fare un percorso con noi. Abbiamo però bisogno della terza gamba, quindi pubblico amministrazione, privato. Noi peraltro stiamo anche investendo nella transizione sulle energie rinnovabili, però abbiamo anche bisogno di chi la rete la gestisce, la manutenziona e quindi di Terna, di Enel Distribuzione e di Enel. Serve insomma un servizio elettrico nazionale, moderno e che funzioni.